Ciao a tutti, signori, sto ufficialmente scaricando il database per i finali dieci pezzi. Inchinatevi alla potenza e alla supremazia del dieci pezzi, perché con questo database da 90 giga circa non avremo più rivali. Sì, poi noi, logicamente, io non gioco usando il programma, però hai tanti che dicono che la dama è risolta. Sì, è risolta al 99,9% solamente con il database dieci pezzi. Ok, bene, io vi faccio vedere come si fa per scaricarlo innanzitutto. Io qua ho scritto Ed Gilbert, che è il creatore di Kings Row Italian, mi compare questa lista, vado qui nella seconda voce. La prima è per il Kings Row inglese, la seconda è per il Kings Row che interessa a noi, dama italiana. Come vedete qua è uscita la nuova versione, la 1.17, sia in versione 32-bit che 64 per Windows. Non so se c'è qualcosa di simile anche per Mac, ma non lo so. Sicuramente è un programma totalmente diverso. Qua c'è, logicamente, anche l'ultima versione della piattaforma Checkerboard. Hanno adesso migliorato il sistema di installazione, perché c'è un installer che fa più o meno tutto lui, trova la directory da solo. E come vedete qua ci sono i vari database. Allora, l'otto pezzi, che è quello che ho utilizzato fino adesso. Il nove pezzi. Il dieci pezzi, parte 1 e parte 2. Sono divisi in due parti, perché sono tutti file da 2GB all'1 e in totale dovrebbero superare, credo, i 90GB. Non arriva a 100GB, però è davvero molto spazio. Io, per esempio, li ho salvati prima su un drive esterno da 2TB. Adesso poi sto pensando di occupare un po' di spazio del mio SSD, che è 480GB, però, come sapete, gli SSD sono molto costosi, pur essendo veloci, ma lo farei proprio perché, sacrificando molto spazio, perché i tempi di caricamento con il King sarebbero veramente biblici, altrimenti. Ora, se io adesso vado a cliccare sulla prima parte, si viene reindirizzati a questo sito, dove io ho già creato una cartella. Bisogna loggarsi, bisogna iscriversi, bisogna creare una cartella nel cloud, quindi è una procedura fattibile, nulla di così complicato, però bisogna creare un po' di ordine perché adesso io qua ho un profilo, come vedete. Come vedete, ho un profilo e se vado a cliccare sul cloud, mi compare la cartella che ho creato, che ho chiamato database 10 pezzi. è divisa nella prima parte, nella seconda parte, vedete che nella prima parte i file sono 24 più il setup.exe, queste le ho scaricate tutte, mi mancano alcuni file dell'ultima parte, credo che mi manchi il 17 e il 18, adesso alcuni li ho saltati, forse il 18 ce l'ho, ecco io ho cliccato due volte, mostrami e mi parte il download, come vedete adesso non va molto veloce, però dipende un po' dalle situazioni. L'unica sfortuna è che bisogna pagare se si vuole avere lo spazio più, come dire, un aumento di spazio scaricabile, diciamo. Io posso scaricare senza pagare nulla, più o meno 4 giga ogni circa 4 ore, 4 ore e mezza, altrimenti poi mi dice di aspettare. In che cartella le ho messi? Allora, qua per esempio in questo disco ho creato in questa cartella parte 1, parte 2, parte 1 li dovrei avere tutti. Adesso è un po' lento ad aprire, ecco, una volta finiti di scaricare tutti si clicca due volte su questo, esegui, adesso io non vado avanti, ecco vedete che mi crea automaticamente la cartella con quel nome strano, kr underscore, underscore, ital, underscore, w, l, d, che una volta invece andava creato manualmente con diversi problemi da parte di chi non ha molta dimestichezza con il pc, ma anche io ho avuto diversi problemi. Adesso io cancello perché ho già installato, quindi annullo, ho già installato la prima parte, l'ho installata qui, volume h che è il mio ssd, vedete che c'è già la cartella, qua adesso poi i file hanno cambiato un po' il nome, quindi vanno installati perché insomma sono tante parti che vanno estratte e poi installate. Per quanto riguarda invece la seconda parte, la sto finendo di scaricare. Una volta che avrò finito, avremo finalmente il 10 pezzi che è in grado di risolvere posizioni finali molto complicate con un alto numero di pezzi che superano gli 8. Diciamo che una partita, il King, in cui c'è un prefinale, per dire con anche 10 pezzi contro 11 o 10 contro 10, insomma, può arrivare a vedere un finale con massimo 8 pezzi. Ci sono però alcune eccezioni, 8 pezzi però sono pochi perché contano sia i pezzi bianchi che i pezzi neri. Ci sono delle eccezioni, dei finali molto complessi che il King fino adesso non era in grado di decifrare, come per esempio vi posso rimandare alla partita Ferrari-Borghetti, per esempio, anzi Borghetti-Ferrari, scusate. Ecco, con questo database dovrebbe essere possibile anche verificare la vittoria della partita, come si vinceva. Bene, adesso quando avremo finito non resterà che inchinarci alla potenza del King's Row. Alla prossima!